Conservitalia è il gruppo cooperativo più importante che accorpa addirittura 14.000 produttori e dimostra sempre una particolare attenzione verso il mondo della natura. Nella divisione Orica con quali marchi operate? In divisione Orica operiamo con tre marchi, Yoga, Derby Blue e Valfrutta. Qual è il diverso posizionamento di questi tre marchi? Innanzitutto abbiamo cercato nel tempo di razionalizzare le linee per l'offerta al consumatore poi razionalizzare e andare su delle ricerche con uno sviluppo differenziato faccio un esempio Valfrutta con il biologico, Yoga con l'arte del 100% e da ultimo Derby Blue con il senza zucchero aggiunto. Quindi tre posizionamenti diversi per tre consumatori diversi per andare a intercettare sempre di più le richieste di questi nuovi consumatori. E sempre rimanendo in questo canale ci sono delle novità che presentate qua a TutoFood? Sì, a TutoFood presentiamo la nuova gamma del biologico Valfrutta con il rinnovo del packaging e un paio di gusti aggiuntivi in più rispetto alla linea scorsa, quali il melograno e il mirtillo e presentiamo il frutta e veggie 100% sempre per il marchio Yoga. Passiamo ora al canale retail, qual è l'offerta di prodotti che Conservitalia propone? Dunque Conservitalia propone tre marchi sul mercato Yoga, Valfrutta e Derby con tre posizionamenti distinti e con una politica di innovazione differente. Quest'anno in particolare su Yoga abbiamo lanciato due linee di prodotto innovative che sono dei centrifugati a base frutta e dei netteri di frutta senza zuccheri aggiunti che stanno incontrando il favore del mercato. Ci sono altre novità per questa categoria che proponete qui in Fiera? No, qui in Fiera no, però siamo impegnati a sviluppare questi prodotti che si aggiungono ai lanci fatti nello scorso anno dove abbiamo lanciato dei frullati a base di frutta e verdura per Valfrutta e quindi in qualche maniera stiamo cercando di rinnovare l'offerta dello scaffale dei succhi in un'ottica più salutistica quindi senza zuccheri e con ingredienti molto più sani e naturali.